Bisogna riportare la fraternità al centro della nostra società tecnocratica e burocratica, perché senza fraternità la libertà e l'uguaglianza rischiano di riempirsi di individualismo e conformismo. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale tenuta in Piazza San Pietro alla presenza di più di 20.000 pellegrini. Proseguendo le riflessioni sulla famiglia, il Pontefice ha parlato del ruolo dei fratelli, sottolineando che il legame di fraternità che si forma in famiglia tra i figli si avviene in un clima di educazione e all'apertura agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace. Oggi più che mai è necessario riportare la fraternità al centro della nostra società tecnocratica e burocratica. Allora anche la libertà e l'uguaglianza prenderanno la loro giusta intonazione. Perciò non priviamo a colleggero le nostre famiglie per suggestione o per paura della bellezza di un'ampia esperienza fraterna di figli e figlie. È proprio la famiglia, ha spiegato ancora Papa Francesco, che introduce la fraternità nel mondo e quando il rapporto fraterno si rovina apre la strada ad esperienze dolorose di conflitto, tradimento, odio. Per questo invece la fraternità in famiglia risplende in modo speciale quando si vede l'affetto verso il fratellino o la sorellina più deboli, malati o portatori di handicap. Lo stesso accade per la fraternità cristiana. I più deboli e i più poveri sono nostri fratelli, ha concluso Papa Francesco, e come tali dobbiamo amarli e trattarli. I cristiani vanno incontro ai poveri non per un programma ideologico, ma perché la parola e l'esempio del Signore ci dicono che tutti siamo fratelli. Questo è il principio dell'amore di Dio e di ogni giustizia fra gli uomini.